ma che abbiamo qua e una bottiglia marco una scalinata le tue spalle una bottiglia ci siamo sposati ma chi ci guarda qua vuole sapere chi vi ha aiutato a realizzare tra virgolette questo sogno chi c'è qua dietro che riprende c'è andrea luchitta bene dai non saremmo riusciti a individuare anche così velocemente e poi anche tutto il supporto che ci avete dato dietro specialmente legato alle scartoffie burocratiche che forse è una cosa peggiore di supporto psicologico che non è da poco consulente h24 siamo qua in Italia Immobiliare per concludere ufficialmente l'atto di comproendita con un bel indisi che sia di buon auspicio e che importunale grazie i nostri apprenditi marco e la sua principessa laura chi è alta grazie rivolgiamo anche la nostra segretaria che partecipa sempre alla burocrazia un golcino per me e anche se sono di plastica quindi ragazzi salute grazie e a Vitali Immobiliare Vitali Immobiliare tutta un'altra agenzia